Ciao a tutti da Facile e Veloce Opinioni. Siamo qui alla fiera dell'Esposizione dell'Alta Moda che si tiene in via Bixio, una delle entrate della scuola Galilei. Qua c'è l'esposizione delle borse di alta moda di varie marche da vari paesi. Non potevo appunto non segnalarvela perché io se faccio appunto vlog è per segnalarvi degli eventi culturali. Vedete questa? Questa è una Dalida Mini della Decouture. Sono marche che comunque non sono conosciute tantissimo ma sono comunque di alta moda. E sono del tutto innovative. Vedete sono design e loghi che non trovate appunto dappertutto. Non posso non segnalarvi. Aspettate un attimo. Il design di questa borsa fatta con i foulard, con l'arte del riuso, bellissima. E qui potete vedere che diciamo è anche un museo aereo, degli aerei appunto della guerra. Quindi un altro design particolare che potete vedere sono queste borse che è della Menudier, che è una marca che fa un particolare tipo di pelle nonché l'Urox e riprende pure i drappi che sono andati tanto di moda nelle spilate di quest'anno. Che sono vendute anche dai bijoux oltre che dalle grandi case di moda. La Menudier. Questa è molto particolare perché ha un manico molto, tra virgolette, fatto ad anello, molto particolare. Diciamo sono cose che appunto non trovate dappertutto. Bellissime. Non potevo appunto non segnalarvelo. E inoltre ora vi faccio un bellissimo primo piano di questo aereo. E andiamo avanti. Ci sono altre borse, non l'avevo notato, della U3. Bellissimi questi svaroschini incastonati in questa pelle scamosciata. Sempre di questa marca ce ne sono altri modelli e altre grandezze. U3. Vedete, sempre la cosa che caratterizza questo brand è proprio questi svaroschi incastonati e la lavorazione con la pelle. Bellissima. Qui vediamo un primo piano di un altro aereo. Stupendo. Stupendo unire moda e storia. E quindi non potevo non documentarvelo. E quindi questa è la prima stanza. La prima stanza di questo museo. Ecco qui mio marito e la mia carissima amica che ci hanno accompagnato in questo viaggio all'interno del mondo della storia della guerra e della moda. E' emozionata? Mi sto facendo le smorfie. Ora si mi do la altra. bello, bello, bello